Ciao mio caro amico aspirante e trader professionista e profittevole Oggi è giovedì 17 gennaio 2019 e lascia che ti mostri il fantastico trade profittevole che ho fatto Bene, questo è il range pitusa di ieri Ieri è stato un giorno molto strano della sessione pitusa Come vedi, siamo stati in questo range qua Poi il mercato ha fatto un nuovo massimo E poi prima della chiusura c'è stato questo veloce pullback Creando un doppio minimo Bene, la sessione overnight come vedi l'Asia session ha arrivato La sola London session è rimasta in questo range qua E abbiamo aperto, come vedi, alle 15.30 ore italiana In un moderato gap down, ok? L'abbiamo aperto qua Bene, i livelli importanti della sessione pitusa di ieri sono la valore high La valore low che è questa linea blue qui Poi il POC E poi ovviamente la sessione overnight il massimo e il minimo E il POC Bene, il trade che ho fatto io al mighty E' stato entrare veramente long Su cosa? Su questo ROSUK E sono entrata la rottura V Di questo ROSUK a 30 minuti Semplice, semplice, semplice Andando verso la chiusura del gap La chiusura del gap come vedi è qua Io ho messo 5 contratti long Un target di breve, quindi a metà di questa distanza 3 contratti qua 2 o 3 tick sotto il massimo Il minimo della sessione pitusa di ieri Come vedi è questo minimo qui Bene? Questo doppio minimo E niente, come vedi questo è il grafico a 5 minuti Io ne sono entrato non qui la rottura qui Ma sono entrato la rottura a 30 minuti Proprio questo ROSUK è semplice, semplice Bene, in mercato come sono entrato All'apertura, come vedi, ho iniziato a stampare grossi ordini d'acquisto Questa linea color ciriano tratteggiata È una linea che divide la distribuzione superiore E la distribuzione inferiore della sessione overnight Bene, il mercato accelera Mi prende il primo target Poi va vicinissimo a prendere i miei 3 target A questo punto io muovo il mio stop loss Da qui sotto, sotto a tutto questo ROSUK A qui sotto, a questi due stacked buy and balance E il mercato fa stampo qua Ci sono grossi ordini di vendita Come vedi accatastati Ma non è un livello importante per creare uno short Per entrare short Quindi ho aspettato Ho aspettato, infatti poi, come vedi All'eccessiva apertura Della 5 minuti Il mercato ha iniziato a buttare fuori A stoppare tutti gli shortisti Che sono entrati a questo livello Infatti il mercato mi prende gli altri 3 target E a questo punto sto in operazione E decide di gestirla a un minuto nel grafico A candida a un minuto del P2S di oggi Bene, come vedi il mio training stop profit è qui sotto A questi 1.647 ordini di acquisto Sotto a questo CDIOT Che è il mio più importante supporto dinamico in quel momento Il mercato chiude il gap Questo in verde è il 7man price Chicago Dell'SP mini 500 di ieri Il mercato stampa un po' di minuti qua Come vedi Intorno al minimo di ieri Il mercato vuole invertire Io lascio ancora il mio training stop qui Il mercato riparta a rialzo Rialzo, rialzo, rompe a rialzo Quindi questi shortisti Qui erano shortisti deboli Perché qui in questo grafico c'è un importante indizio Che se non sei il trading professionista Lì tu sei fiato Non lo puoi conoscere Bene Poi il mercato accelera E io sollevo un pochino di più il mio training stop profit Ma poi mi stoppa il training stop profit E poi importa Perché quello che conta è che con 5 contratti long Sono entrato Con chi sono entrato Ho totalizzato 912 dollari di profitto Bene caro mio Se anche tu potresti dare in questo modo E fare meglio di me Nel mercato dell'efficio Delle azioni di opzioni Allora scrivi la tua storia E mando il link sotto a questo video Vi ti auguro grossi Grazie su questi profitti All'unica prossima sessione di trading Ciao da ormai Ci vediamo domani Al prossimo tre profittevole Ciao